Pensavo che lo sapevo che qua sopra era un problema, era un freddo e oggi mi sono occupato proprio bene, ho fatto lo che già il Savion ha detto, fino alla fine mi ero a ruotare il coso vivo, il mondo più forte, la risprime la sono occupata in Bruxelles che mi ha fatto un bel lavoro, e ho fatto una minoculata lì al finale e ho riuscito a vincere. Sei un scalatore molto forte, hai anche un buono spunto veloce, quindi saresti adatto sia per i grandi giri che per le classiche, come ti vedi nel futuro? Ora sto dimostrando che veramente posso stare in alta montagna, ora andrò a far dedicare l'Italia, a giocare un posto a fare più l'Italia, e lei ha comunque un nuovo posto di sull'istica. Grazie.